Chi cade oggi, cade da eroe! Abbiamo isolato una squadra da bordaggio ribelle. Va contenuta ed eliminata di tanti. Niente prigionieri. Fotte via! Inizio assalto! Qual è il piano? Corpo a corpo! Inizio assalto! Inizio assalto! Si! Voi! Gli uccidere! Fiii! Fuuu! Si! Grazie a tutti. 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 Tutti gli intrusi sono stati neutralizzati. Grazie a tutti.